Infattamente, non ve la volevo fare vedere, ma ho qui per voi la prima bozza di lista che voglio proporre propostatamente, il mio Dream Team, e cioè Melo Laqualunque, o proprio Salvo Laqualunque, Rosario Laqualunque, Pino Lo Straniero acquisito Laqualunque, grazie, grazie, poi Mende, Rocco Laqualunque, no, no, mi scusi, Rocco Laqualunque non è in carcere, esce fra due settimane, è pulito.